salve buongiorno a tutti oggi è il 21 il 21 di giugno e questa mattina non ho molto da dire perché col caldo che fa si dorme male e quando si dorme male insomma non si sta benissimo io poi sono una che l'estate diciamo che non mi piace molto l'estate allora dunque penso di dover fare nel prossimo futuro dei video privati ricomincerò di nuovo a farli e voglio informare tutti coloro che eventualmente vorrebbero entrare nei video privati che nel video privato entra in quelli del mio gruppo i giocatori del mio gruppo e le persone che mi seguono allora cosa vuol dire seguire il canale vuol dire commentare e fare presenza perché uno cioè seguirmi così nell'anonimato non è molto interessante non sono interessata ai giocatori anonimi stamattina per non allungare troppo il brodo perché come ripeto si dorme male la notte allora vi pubblico questo che è un calcolo dell'ambo doppio e poi verso vi voglio dare questa previsione oggi ne abbiamo 21 che dal 22 al 31 dal 22 di questo mese quindi da domani ma da domani non c'è l'estrazione quindi partiamo da oggi vi darò questa sestina come ben sapete io di omaggio pubblico solo le sestine non pubblico le ruote le ruote eventualmente le metterò sempre nei video privati o comunque le metterò sul mio ah stamattina voglio dare una informazione una informazione ai giocatori del mio gruppo sì ai giocatori del mio gruppo allora ci sono otto numeri da giocare sulle tre ruote del sole mi rendo conto che otto numeri sono parecchio per tanta roba da giocare su tre ruote e diciamo che sono l'ultima è l'ultimo filotto che dovrebbe uscire di giugno uno degli ultimi comunque perché stanotte sono stata su alla ricerca e ne sono usciti già parecchi allora per chi fosse interessato ovviamente il filotto da giocare su tre ruote è un filotto di otto numeri da giocare su palermo su roma e su napoli per chi eventualmente fosse interessato me lo può chiedere su whatsapp che lo do di omaggio allora voglio sottolineare che in questo periodo a parte il mio gruppo che il mio gruppo è un altro film un'altra storia altro programma io sto omaggiando di molto materiale quindi è tutto omaggio beh penso di aver detto tutto sì penso di aver detto tutto adesso pubblicherò sul mio whatsapp i numeri i numeri questa questo filotto per chi vuole speculare per chi vuole speculare vedete voi quello che volete fare magari esce un bel ternino su ruota con otto numeri e ti saluto di netta e portata a casa la fresca allora stamattina c'è questo di omaggio e c'è questo io vi do l'appuntamento questa sera vi auguro una splendida giornata calda molto calda e appunto vi vi do l'appuntamento questa sera ciao e grazie